basta tutto chiaro fin qua sì sono contenta ti è piaciuto il corso? l'avevo in realtà l'ho preso molto infatti anche con Marchella ma con Marchella mi sono trovata benissimo bravissima cioè proprio io partivo da zero io ho studiato design della moda e comunque un po' mi interessava il settore mi sono trovata in degli spazi tali da approfondire un po' anche tutta questa sfera qua perché in realtà ho sempre fatto un po' di tutto nei lavori sono sempre stata un jolly quindi ancora infatti proprio in questi giorni lo dicevo anche a Marchella io non mi hanno rinnovato un contratto di lavoro quindi durante questo mese mi sono trovata a rimettermi un po' alla ricerca di tutto e da pochissimo inizierò ad attivare tutte le pratiche un po' con oggi e domani perché ho trovato lavoro in un ufficio stile di un'azienda quindi sono molto contenta adesso vediamo speriamo che comunque ha due punti di entità monomarca e ha bisogno di un visual anche che ogni tanto vada lì a dargli una mano quindi in realtà è una è una cosa bella e si sono incastrate un po' tutti i puntini e un po' perché non mi mettevo sullo studio in realtà da un sacco di tempo e l'ho presa un po' sul personale cioè l'ho presa proprio sul personale in realtà comunque programmi del genere 3D io zero cioè proprio zero magari qualcosa in 2D qualcosa di basico sì la parte mi è piaciuta tantissimo la parte teorica che diciamo un po' più mia sono un po' più le mie competenze appena mi sono trovata davanti in SketchUp mi è preso un colpo però alla fine ne sei uscita però alla fine ce l'ho fatta cavo zoom estensioni adesso me lo ricorderò per tutta la vita però bene bene e come sei arrivata a noi? ma in realtà facevo ancora un lavoro vecchio quindi mi era presa comunque la voglia di tornare a studiare qualcosa di più specifico e di più settoriale in realtà mi sono state richieste delle certificazioni nel mio percorso di lavoro e in realtà da lì ho capito quanto fossero fondamentali cioè per per alcuni lavori specifici o per alcune mansioni specifiche io in realtà nella mia ignoranza ti dico la verità non sì ho sempre detto è ovvio sì però in realtà è venuto fuori non so tante domande ma tu ce l'hai quella certificazione per quello? ah ce l'hai per quest'altra poi europea tutto quanto in realtà online cercando cercavo dei corsi dei master e dei corsi che mi lasciassero magari non solo non voglio sminuire la parola sopra non solo un attestato ma proprio anche una certificazione che comunque c'è scritto che c'è qualcosa lo sai fare sai mettere mano e dalla base ti sai orientare e quindi in realtà la certificazione in sé mi aveva presa molto poi io all'inizio presa dall'euforia non mi ero resa conto che ci fosse tutto questo 3D quindi mi sono messa le mani nei capelli io sono sincera al 100% mi sono messa le mani nei capelli poi alla fine ho scoperto che mi piace tantissimo quindi per me è stata una bella sorpresa sì bene un feedback molto positivo se potrò inserirlo da qualche parte lo farò lo posso inserire nel portale va 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 Grazie a tutti.